eccoci tornati finalmente pronti a riprendere il via dopo le festività in questo video riesumeremo il tema espressioni regolari da dove lo avevamo lasciato buona visione piccolo rinfresco di memoria nell'esempio l'espressione regolare contenuta nel blocco if troverà corrispondenza con la variabile parola sia se parola contiene la stringa obiettivo con abissola sia che contenga invece la stringa obiettivo con doppia b poiché abbiamo specificato tramite questo quantificatore definito che il carattere precedente quindi il carattere b deve ripetersi da una a due volte non una volta di più non una volta di meno può capitare però che si abbia la necessità di indicare all'interno di un'espressione regolare la ripetizione di più caratteri anziché di un singolo carattere supponiamo di voler verificare se la stringa contenuta nella perl favorite default contenga la stringa mario spazio io possiamo racchiudere tra parentesi tonde uno o più caratteri creando così dei gruppi di cattura grazie a questa feature possiamo applicare le proprietà dei quantificatori ad un numero n di caratteri ma non è tutto ogni gruppo di cattura creato può essere riutilizzato quando e quante volte vogliamo all'interno di un'espressione regolare tramite l'utilizzo del suo back reference dovete sapere che una volta creato un gruppo di cattura non viene disperso nell'etere bensì gli viene assegnato un identificatore numerico univoco e successivamente viene stipato in memoria l'identificatore che gli viene così assegnato prende il nome di reference e proprio grazie a questo reference possiamo andare a ripescare un qualsiasi gruppo di cattura precedentemente creato i reference vengono assegnati da sinistra verso destra quindi guardiamo la stringa acciaio braccio iodato da sinistra verso destra il primo gruppo di cattura che incontriamo è cc quindi il gruppo numero uno sarà uguale a cc il gruppo successivo è io quindi gruppo numero due sarà uguale ad io e così via una volta numerati e salvati in memoria sono a nostra completa disposizione possiamo quindi richiamarli in ogni momento utilizzando backslash più reference da qui il nome back reference nell'espressione regolare come potete vedere ho richiamato i due gruppi di cattura per comporre la sequenza braccio e la sequenza iodato torniamo all'esempio allora cosa facciamo qua si crea il gruppo di cattura io e si cerca la corrispondenza con la sequenza mario spazio più gruppo di cattura 1 richiamato via back reference 1 quindi la sequenza da individuare quale sarà sarà mario spazio io perché il gruppo di cattura 1 contiene i caratteri io eseguiamo lo script corrispondenza trovata per riprova proviamo a cambiare io in il ea rieseguire il tutto come previsto nessuna corrispondenza trovata perché il gruppo di cattura 1 contiene io quindi verrà cercata corrispondenza con mario spazio io mentre la stringa è mario spazio il come anticipato i gruppi di cattura ci consentono di applicare le proprietà dei quantificatori su più elementi nell'esempio si definisce il numero di ripetizioni del gruppo 1 quindi verrà cercata corrispondenza con la stringa mario spazio io io e seguiamo lo script nessuna corrispondenza trovata poiché io si ripete solamente una volta se si aggiunge un io e si riesegue lo script stavolta corrispondenza trovata anche qua si può cascare nell'inganno che vi ho proposto negli ultimi esercizi guardate un po il gruppo 1 si deve ripetere esattamente due volte per trovare corrispondenza giusto proviamo ad aggiungere un altro io e a rieseguire lo script corrispondenza trovata eppure la sequenza parla chiaro trova corrispondenza con mario spazio io io mentre la stringa contiene mario spazio io 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 strano il fatto è che non c'è nulla che non vada infatti la corrispondenza viene correttamente trovata e la condizione del quantificatore soddisfatta una volta trovata la corrispondenza l'espressione regolare restituisce true punto non importa cosa ci sia prima o dopo la corrispondenza ma allora se le cose stanno davvero così come facciamo a descrivere meglio le nostre intenzioni in questo caso dobbiamo ricorrere all'utilizzo delle ancore le ancore sono meta caratteri particolari e il loro compito è quello di assicurarsi che la posizione dei caratteri o delle sequenze contenute all'interno di un'espressione regolare venga rispettata nell'esempio utilizzeremo l'accento circonflesso e il dollaro l'accento circonflesso si accerta che si inizi a valutare l'espressione regolare dall'inizio della stringa mentre il dollaro delimita la fine della stringa quindi inserendo l'accento circonflesso all'inizio della nostra sequenza e il dollaro alla fine ci assicuriamo che la stringa inizi con mario poi venga rispettata la sequenza centrale che in questo caso è composta da un solo spazio e che infine si ripeta due volte il gruppo 1 quindi i caratteri io dopodiché la stringa deve terminare in questo modo non è più ammesso alcun carattere né prima di mario né dopo il gruppo 1 facciamo qualche prova proviamo mario io 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 nessuna corrispondenza trovata perché il gruppo 1 si ripete tre volte anziché due come specificato nel quantificatore vediamo ora cosa succede con la stringa ciao mario io io anche stavolta nessuna corrispondenza trovata perché mario si deve trovare all'inizio della stringa infine guardiamo cosa succede con mario io io corrispondenza trovata poiché tutte le condizioni vengono rispettate la stringa inizia con mario poi viene rispettato lo spazio ed infine la stringa termina ripetendo due volte il gruppo 1 complimenti a tutti coloro che sono riusciti a capire il meccanismo di questo trabocchetto se inseriamo uno o più punti all'interno di un gruppo di cattura indicheremo all'espressione regolare di catturare qualsiasi carattere ad eccezione del new line nell'esempio dopo la sequenza sc si crea un gruppo di cattura composto da due caratteri qualsiasi in questo caso da doppia o che poi riutilizziamo alla fine della stringa richiamandolo tramite back reference e seguiamo lo script corrispondenza trovata se cambiamo do in doa nessuna corrispondenza poiché il gruppo di cattura come abbiamo detto contiene doppia o quindi non troveremo alcuna corrispondenza con scubidoa è possibile anche creare gruppi di cattura annidiati ovvero gruppi di cattura all'interno di altri gruppi di cattura nell'esempio si creano tre gruppi di cattura il gruppo 1 che in questo caso contiene la sequenza abba e dentro il gruppo 1 si trovano i gruppi 2 e 3 il gruppo 2 contiene il carattere a e il gruppo 3 contiene il carattere b una volta creati i gruppi 2 e 3 si richiamano via back reference per comporre la sequenza abba contenuta nel gruppo 1 infine si richiama il gruppo 1 dopo il carattere d per creare dabba e seguiamo il tutto e come previsto corrispondenza trovata dalla versione 5.10 del linguaggio è stato introdotto un altro metodo ancora per richiamare i back reference invece di utilizzare backslash più reference si può utilizzare la forma backslash g e reference tra parentesi graffe nell'esempio si va a creare una situazione di ambiguità nella stringa x x 111 y y si tenta di catturare il primo carattere quindi la x poi ed è qua che le cose si fanno strane si tenta di utilizzare il back reference al gruppo di cattura appena creato ovvero al gruppo 1 il problema è che si va a creare questa forma qua quindi l'interprete deve tentare di indovinare le nostre intenzioni e come ormai ben sappiamo l'interprete non dovrebbe mai prendere iniziative il ragionamento che fa il pearl è il seguente non si tratta del reference ad un gruppo di cattura poiché non sono stati creati 110 gruppi prima di questo quindi si tratta di una sequenza ottale di escape errore errore mio caro perri guardate infatti cosa accade se eseguiamo lo script nessuna corrispondenza trovata per risolvere il problema possiamo utilizzare la forma backslash g e reference tra parentesi graffe in questo modo diciamo esplicitamente all'interprete che ci stiamo riferendo al back reference del gruppo di cattura 1 rieseguiamo lo script e infatti corrispondenza trovata bene direi che per questa lezione è tutto lascio gli esercizi in descrizione ai volenterosi inoltre per qualsiasi domanda vi invito come al solito a lasciare un commento a risentirci